SIGLA VOLETE CHE LO RIFACCIA? No. Ti faremo sapere. Ok, Cheryl? Sì? No. No. Janet. 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 Helen, pago a stento l'affitto. Beh, apparirai come ospite in una trasmissione. Da questa parte. Grandioso. Stai bene? Ah, perfetto. Divertiti. D'accordo. Allora, iniziamo. Tutto a posto? Siamo pronti. Ed è pronto nel backstage. In diretta dai Chuck Berners Stages a Hollywood in California, il gioco delle coppie. Signore e signori, un benvenuto alla donna del momento. Che il gioco abbia inizio. Pretendente numero uno. Questa è facile. A che cosa servono le ragazze? Che cosa intendi? Quello che ho detto. Io credo in te, numero uno. Ottimo. Pretendente numero due. A che servono le ragazze? Perché mi sembra una trappola? Lavoro nello show dal 1968 e ho imparato una cosa. Non importa quali parole usino, la domanda sottintesa è sempre la stessa. Fate il vostro lavoro! Quale domanda? Chi di voi mi ferirà? Continuiamo. Pretendente numero tre. Conto su di te. A cosa servono le ragazze? Conto su di te.